papinata appena in partenza un video che secondo me è fondamentale per la matematica e riguarda le funzioni inverse però non solo anche proprio il calcolo di una di una formula inversa per la fisica io parlo di funzioni quindi di x in rapporto con y però ripeto la stessa cosa può essere i suggerimenti che darò in questo video possono essere utilizzati anche quando cercate una variabile in funzione di un'altra registro questo video subito sono appena tornata da scuola ho fatto sei ore per tre ragioni una o la verifica in quarta informatica dove c'è proprio da calcolare la funzione inversa due in terza liceo stessa cosa tre l'altro giorno il mio collega di fisica in una seconda fisica in una seconda chimica che mi dice il tizio che è tra i miei iscritti tra l'altro nel canale non è stato capace di calcolarmi un'inversa e allora sono andata un po arrabbiata in classe nicolò viene alla lavagna e lavoriamo sulle funzioni inverse troviamo delle strategie per trovare sempre la una variabile in funzione di un'altra allora prima di cominciare anzi facciamo così facciamo che a metto gli occhiali b prendo la mia penna ci condivido la mia lavagna svolgimento giusto e vada andiamo ad iniziare e tanto che faccio queste cose che si apre la lavagna mi raccomando solita cosa che chi è già scritto conoscerà a memoria iscrivetevi al mio canale youtube e aiutatemi a crescere allora dunque innanzitutto come funzione di solito in matematica la y è funzione di x questa è quella che si chiama variabile indipendente quella che finisce sull'asse orizzontale ok questa invece è la variabile dipendente che è quella che finisce sull'asse verticale io do delle x a seconda della mia x che io ho dato per esempio a x 1 corrisponde y non so 5 questo punto di coordinate 1 5 fa parte del grafico della mia funzione ok allora in matematica sono le x le y in funzione della x le y in funzione della x e non viceversa se io allora detto in un'altra maniera nel primo insieme avete le x nel secondo insieme avete le y cioè la funzione diretta è quella che si chiama f la funzione inversa in matematica viene chiamata f alla meno 1 che non è da confondersi con l'1 fratto f non vuol dire il meno 1 sui numeri vuol dire questa cosa che se avete 2 alla meno 1 questo significa un mezzo l'f la meno 1 vuol dire la funzione inversa dalle y arrivo le x quindi se nella mia funzione diretta l'1 mi fa arrivare in 2 nella funzione inversa il 2 mi fa arrivare in 1 ok come calcolo l'inversa allora bisogna cercare innanzitutto se nella funzione diretta avete le y in funzione di x nell'inversa bisogna cercare di avere la x in funzione di y quindi la y diventa la variabile indipendente quindi l'asse y va a finire sull'asse x e la x diventa quella dipendente quindi l'asse x va a finire sull'asse y è come se questi due assi si scambiassero ok allora io do questi suggerimenti che sono gli stessi che potete utilizzare quando avete una formula anche di fisica e che dovete su cui dovete calcolare una variabile in funzione di un'altra o di altre allora prendiamo dei semplici esempi io y che è uguale a x alla seconda meno 1 fratto 2 allora io ho detto ai miei ragazzi innanzitutto siccome la x deve essere in funzione di y quindi scrivetelo al contrario x alla seconda meno 1 fratto 2 uguale a y ho scritto la stessa cosa solo che ho letto quest'uguaglianza da destra verso sinistra e pensate innanzitutto quale operazioni io devo cercare di isolare questa x quali sono le operazioni che lei subisce viene elevato al quadrato viene sottratto 1 viene dimezzato quindi è come se fosse una funzione composta la x la elevate al quadrato gli sottraete 1 e poi dimezzate nel ricavare l'inversa bisogna fare tutto il contrario allora e ho detto che ci sono queste operazioni il quadrato il meno 1 e il fratto 2 io vado al contrario prima sistemo il fratto 2 il fratto 2 come lo sistemo che se da una parte risulta fratto 2 va a finire dall'altra parte moltiplicato per 2 un 2 sotto va a finire sopra ok per quale la ragione perché applico quello che è il secondo principio delle uguaglianze moltiplico a destra a sinistra per 2 dalla parte dove c'è fratto 2 sparisce dall'altra parte mi appare al al numeratore io ho fatto inconsciamente questo passaggio 2 2 da questa parte ho semplificato di là diventa 2 y ok poi devo sistemare il meno 1 il meno 1 applico quello che è il principio del trasporto quindi meno 1 finisce dall'altra parte con più 1 finisce dall'altra parte così poi c'è il quadrato l'operazione inversa del quadrato che cos'è quella di mettere sotto radice quadrata 2 y più 1 allora nel caso delle funzioni non metto il più o meno perché essendo una funzione devo avere a da ogni y deve corrispondere una x sola quindi non metto il più o meno la radice quella aritmetica se fosse invece una formula di fisica io dovrei per esempio trovare qualsiasi x che mi dà questo risultato quindi dovrei mettergli un più o meno nel caso delle funzioni no poi la cosa che ai ragazzi di solito fa un po' specie che quando devono dare la risposta al posto di y ritorno scrivere y al posto di y devo tornare a scrivere x perché in matematica le variabili indipendenti vengono sempre chiamate con x le variabili dipendenti vengono sempre chiamate con y non è non è importante i nomi x y importante come è fatta la funzione queste due funzioni sono la stessa funzione non cambia la funzione mi dice che la variabile indipendente deve essere raddoppiata li dovete sommare 1 e mettere sotto radice quindi che si chiamino x y che si chiamino t e s t e v non importa in matematica però si presenta sempre la funzione come y in funzione di x quindi nel momento in cui io l'ho trovata devo riscrivere quello che ho a sinistra cioè la variabile indipendente dipendente come y e la variabile dipendente come x d'altra parte quando io prima vi ho detto si scambiano gli assi l'asse y che era y diventa l'asse x l'asse x che diventa l'asse y diventa la x e quindi si scambiano i nomi allora un po' di suggerimenti per quando fate le inverse innanzitutto bisogna appunto avere bene presente io devo isolare la x qual era l'ordine delle operazioni x cosa viene fatto qui al quadrato meno 1 fratto 2 vado al contrario prima sistemo il fratto 2 poi sistemo il meno 1 e poi il quadrato le operazioni inverse attenzione quando voi avete un più o meno un numero l'operazione inversa è il contrario se voi avete un più diventa un meno se avete un meno diventa un più lo stesso numero è il principio del trasporto trasporto quindi cosa molto banale se io ho y che è uguale a x meno 1 la x che va a finire da questa parte diventerà y più 1 la sottrazione diventa una somma e viceversa se ci fosse stata una somma mi diventava una sottrazione quindi il più o il meno diventa così il per k o fratto k cosa diventa se ho un per k diventa un 1 fratto k se un 1 fratto k diventa k esempio io ho y uguale a 2x x cosa diventa y fratto 2 se io avessi y uguale a un mezzo x o x mezzi x cosa diventa 2x 2y per la seconda proprietà delle equivalenze se io questo 2 lo voglio far sparire cosa devo fare dividere a destra a sinistra se io lo voglio far sparire moltiplico a destra a sinistra quindi quello che è un per diventa un fratto quello che è un fratto diventa un per ok poi un'altra cosa importante se la mia incognita si trovasse sotto 1 fratto x fate un giro cioè io lo dico sempre ai miei alluni per esempio se io avessi scritto y uguale non so a 3 fratto x immaginate il contrario allora 3 fratto x è uguale a y quindi cosa vuol dire che x fratto 3 è uguale a 1 fratto y quindi poi questo 3 lo tolgo da qua e diventa qui e diventa sopra per esempio quando si applica in geometria il teorema dei seni a fratto sen alfa uguale a b fratto sen beta e la mia incognita è denominatore allora giriamo sen alfa fratto a uguale sen beta fratto b e poi se devo isolare sen alfa questo lo tolgo da qui e lo metto qua altra cosa allora questo è il più e il meno il per k il fratto k l'uno fratto poi ci sono altre operazioni inverse le operazioni inverse di una radice ennesima di x oppure di una x elevata alla n cosa sono la la radice ennesima vuol dire che voi la y la dovete elevare alla n la x elevato la n dovete mettere sotto radice ennesima quindi se io ho y uguale x alla quinta x cosa diventa la radice quinta di y se avete y uguale radice sesta di x x cosa diventa y alla sesta ok quindi ok quindi queste sono sono le operazioni inverse quando la di una potenza o di una radice la radice la radice la potenza sono una all'inversa dell'altra ma quando l'incognita la variabile indipendente è radicando al contrario quando la base l'avete e non conoscete la x è l'esponente l'operazione inversa è il logaritmo di base in questo caso due ok in generale avete un numero n alla x l'inversa che cos'è il logaritmo in base n di di y cioè per esempio se avete y uguale che è 2 elevato la x x che cos'è allora i tre attori chi sono la base l'esponente e il risultato della potenza x è uguale a chi logaritmo in base 2 dell'argomento del risultato della potenza logaritmo in base 2 di y del risultato di una potenza è uguale all'esponente ok e viceversa se voi avete una funzione y uguale logaritmo in base a di x allora devo ricavare la x x chi sarebbe il risultato di una potenza la base chi è a l'esponente chi è y a la base elevato al risultato del logaritmo il risultato di un logaritmo è la potenza il risultato della potenza è l'argomento del logaritmo quindi 2 la x logaritmo di sono una la funzione inversa dell'altra invece x alla n radice ennesima sono una la funzione inversa dell'altra il più almeno sono la funzione inversa del meno più per k fratto k sono le funzioni inversa della al contrario fratto k per k 1 fratto x vi conviene invece girare il reciproco ultima raccomandazione allora mi raccomando f alla meno 1 non vuol dire 1 fratto f quindi se la vostra f di x è per esempio 2 elevato la x meno 5 mi raccomando la f alla meno 1 non fate l'errore che stava facendo una mia collega durante una maturità non è assolutamente questa ok la f alla meno 1 come la si trova la f di x la chiamo y è la y allora magari facciamo le scriviamo come ho suggerito ai miei alunni io devo isolare questa cosa qua allora cosa sono le operazioni il 2 elevato il meno 5 quindi inizio il meno 5 a portarlo di là il meno diventa un più e poi quello che vi ho detto prima x è un esponente quindi l'inverso di un esponente che cos'è il logaritmo x che cos'è il logaritmo log in base 2 del risultato y più 5 y più 5 come vedete è messo in parentesi perché se no sembrerebbe solo il logaritmo di y e poi a fianco più 5 invece il risultato della mia potenza è tutto y più 5 quindi questo è l'argomento questo è il risultato del logaritmo questa è la base del logaritmo ok spero di esservi stata utile se è così è stato come penso di aver riassunto bene le cose mi raccomando iscrivetemi al mio canale e cliccate o cliccate il tasto iscriverti o campanella a seconda di dove vedete le mie lezioni se le vedete da pc o le vedete da cellulare ok ciao a tutti e alla prossima